Dopo la prima parte del draft andata in scena a SmackDown e in attesa della seconda che si svolgerà nella prossima puntata di Raw, la WWE sta collocando le star tra quelle selezionabili che ancora non hanno trovato una casa da abitare e lo sta facendo sui social. Quindi andiamo a vedere gli ultimi movimenti per capire come si sta modificando la geografia della compagnia. Allora, Albafire e Isla Dawn le troveremo a Raw, così come il possente vichingo Ivar, Shaina Basler, la submission magician e la pitbull Zoe Stark. Voltando pagina, invece, parlando di SmackDown, lì avremo Cedric Alexander e Ashanti Diadonis, Baron Corbin, che torna dunque nei roster principali e, per finire, l'intero OC, l'Original Club, composto da Luke Gallos, Carl Anderson e Michin.